Ora vediamo quest'altro video veramente molto bello In questo video vediamo un fisico che lancia il disco a ghiaccio secco che fa una curva, praticamente una circonferenza e ritorna nelle sue mani Vediamo Lancia il disco, fa una circonferenza e ritorna nelle sue mani Di nuovo, lancia, circonferenza, ritorna nelle sue mani e si chiede, ma com'è possibile? Che sta succedendo? Qual è questa misteriosa forza che agisce sul disco e non lo fa andare in linea retta? Evidentemente ci troviamo all'interno di un sistema non inerziale perché non è rispettato il principio di inerzia Infatti il disco è sottoposto soltanto al suo peso e alla forza vincolare del tavolino quindi la forza totale su di lui è zero perciò dovrebbe andare in linea retta se non va in linea retta vuol dire che non rispetta il principio di inerzia cioè in questo sistema di riferimento non vale il principio di inerzia ma gli oggetti non sottoposti a forze descrivono una traiettoria circolare chissà perché ma la spiegazione invece c'è e la si capisce soltanto guardando il fenomeno dall'esterno c'è da una telecamera che si trova sopra il tavolino che in realtà sta ruotando quindi i due fici si stanno in un sistema di riferimento rotante e questo è il punto di vista esterno cioè il punto di vista di una telecamera che non sta ruotando Rivediamo in pratica questo fisico lancia il disco il disco va in linea retta poi è il fisico stesso che gira con tutto il tavolino per andarlo a riprendere il disco va in linea retta intanto il fisico fa tutto il giro e lo riprende dall'altra parte vediamo ancora lancia il disco adesso il disco va in linea retta il fisico gira intorno e lo va a riprendere dall'altra parte per convincerci che il disco va in linea retta vediamo da qui non si vede molto bene però adesso nel filmato comprerà una linea retta eccolo una linea retta e si vede che il disco segue questa linea retta di modo rettilineo uniforme potrebbe sembrare che questa linea retta ruoti apparentemente però se voi sullo schermo del monitor mettete un righello o una penna lungo questa linea bianca vedrete che in realtà sta ferma questa linea e quindi il disco effettivamente va in linea retta rivediamo il disco va in linea retta quando viene visto dal sistema esterno cioè il sistema inerziale del laboratorio fisso non rotante quindi vuol dire che non c'è nessuna forza strana se noi guardiamo questo fenomeno dal punto di vista esterno del sistema di riferimento non rotante dal punto di vista di riferimento esterno non rotante c'è soltanto il principio di inerzia cioè la tendenza del disco ad andare a velocità costante in linea retta a modo rettilineo uniforme invece guardando dall'interno del sistema rotante abbiamo questo strano comportamento del disco cioè il disco che fa una circonferenza e torna nelle mani di colui che l'ha lanciato quindi dall'interno il principio di inerzia non vale dobbiamo inventarci delle forze apparenti per giustificare questo strano comportamento le forze apparenti ricordiamo che appaiono soltanto nei sistemi di riferimento non inerziali come appunto il sistema rotante quindi il tavolino che ruota appaiono proprio perché noi vogliamo continuare a far valere il principio di inerzia e anche la seconda legge di Newton e perciò per farla valere dal momento che questo disco non va in linea retta dobbiamo inventarci delle forze che giustifichino l'accelerazione del disco infatti questo disco sta accelerando se per esempio fa una circonferenza vuol dire che c'è un'accelerazione centripeta e quindi ci deve essere una forza responsabile di questa accelerazione centripeta verso il centro della circonferenza descritta vedremo che le forze apparenti che nascono in questo sistema rotante cioè nel tavolino rotante sono due sono la forza centrifuga e la forza di Corioli quindi riassumiamo quanto abbiamo visto fino a qui è inerziale praticamente con ottima approssimazione il sistema di riferimento della Terra e sono inerziali tutti i sistemi che sono ancorati alla Terra cioè tutti i laboratori di fisica che sono all'interno di un edificio che è fissato sulla superficie terrestre sono inerziali anche tutti quei sistemi di riferimento che viaggiano rispetto a quelli fissati sulla superficie terrestre e viaggiano di modo rettilineo uniforme in tutte le direzioni tipo i treni che sfrecciano a destra e a sinistra in alto in basso in obliquo con qualsiasi velocità purché questa velocità sia mantenuta costante invece non sono inerziali i sistemi di riferimento cioè i treni i vagoni che si muovono rispetto a quelli inerziali cioè in pratica rispetto alla superficie terrestre con delle accelerazioni tipo un treno che improvvisamente frena o un treno che accelera se il treno frena all'interno del treno nasce una forza apparente che spinge tutti gli oggetti in avanti se il treno rallenta nasce una forza apparente sempre nel treno che tira all'indietro tutti gli oggetti e per esempio ci schiaccia contro il sedile ma non sono inerziali nemmeno quei sistemi di riferimento diciamo quei treni che hanno delle accelerazioni di tipo centripeta cioè quei sistemi di riferimento che ruotano come questo tavolino che sta ruotando in particolare nei sistemi di riferimento rotanti come questo nascono due forze apparenti nasce la forza centrifuga e la forza di Corioli che tra poco vedremo meglio perché nascono queste due forze intanto abbiamo visto che nascono per giustificare questo strano moto del disco che non è rettilineo ma è un moto appunto curvo un moto rotatorio che altrimenti non avrebbe spiegazioni senza le forze apparenti non si potrebbe spiegare perché un disco senza forze fa questa strana traiettoria però quando noi guardiamo invece dal sistema di riferimento esterno quello non rotante vediamo che non c'è nessuna forza apparente c'è soltanto il moto rettilione uniforme del disco cioè c'è il principio di inerzia quello che sembravano sembrano forze apparenti viste dall'interno del sistema rotante dall'esterno è soltanto il principio di inerzia quindi guardando dal sistema di riferimento non rotante non c'è bisogno di utilizzare nessuna forza apparente semplicemente il principio di inerzia cioè il disco va in linea retta a velocità costante come vediamo qua ciao Grazie a tutti